Allora, oggi stiamo svolgendo un raduno per pastori scozzesi a Pelo Lungo, altrimenti chiamati anche Colli. È una razza che è conosciuta un po' da tutti per via della famosissima Lessi, la serie televisiva, che ha reso questa razza celebre a tutti, quindi tutti sappiamo di che tipo di cane stiamo parlando. È la prima volta in Sicilia, nella storia, che si svolge un raduno specifico per questa razza, un raduno, ci tengo a sottolineare, ufficiale, non una cosa amatoriale, un raduno organizzato dalla società italiana Colli, che è un ente subordinato all'ENCI, l'ente nazionale della cinofilia italiana. Il giudice, lo specialista giudice che oggi sta giudicando i vari soggetti iscritti, a parte essere un noto giudice specialista e allevatore della razza, è anche il vicepresidente dell'associazione, della società italiana Colli. Allora, per me che sono un siciliano e un allevatore di questa razza di pastori scozzesi, è sicuramente un grossissimo orgoglio ospitare verso la mia struttura questa importante manifestazione, che è una manifestazione che è importante anche per il raggiungimento del campionato italiano di bellezza. E quindi, come allevatore di questa razza e proprietario di questa struttura, sono orgoglioso veramente a questo onore di poter ospitare questo raduno. I partecipanti sono rimasti tutti colpiti anche dalla scenografia, solo del posto, ma anche tutto del contorno che c'è qui, che offre la nostra zona. E quindi, insomma, c'è una grossa soddisfazione, anche perché, oltre ad avere molti partecipanti che vengono da tutta la Sicilia, un po' sparsi da tutta la Sicilia, ci sono anche delle persone che vengono da fuori, dal Piemonte alla Toscana, alla Calabria, alla Campania. Quindi, insomma, ha anche un certo prestigio per la Sicilia ospitare anche persone che vengono da allevamenti importanti, anche del Nord Italia o del centro, che quindi danno più lustro a questa manifestazione.